Scandalo al grande fratello. Confessione shock di Wozzy Chien. Ciao a tutti. Oggi desidero raccontarvi con ancora più dettagli un momento straordinario che si è verificato recentemente al grande fratello, coinvolgendo attivamente Wozzy Chien. La celebre chef ha rilasciato una confessione che ha creato un autentico momento di imbarazzo per la regia, che si è trovata costretta a intervenire prontamente cambiando l'inquadratura. Ma cosa è accaduto esattamente in questo frangente emozionante? Nel corso di una conversazione coinvolgente con Alessio Falsone e Federico Massaro, Rosy ha apertamente condiviso un suo bisogno primordiale che, purtroppo, non è riuscita a soddisfare da mesi a causa della sua permanenza nella casa, il bisogno di intimità fisica. Con una sincerità disarmante, la chef ha dichiarato, ho un bisogno impellente di fare l'amore. È vitale per me, una modalità attraverso la quale mantengo la mia energia attiva. Non riesco a sopportare l'astinenza per così tanti mesi, per me è essenziale. La mancanza di contatto fisico mi spegne, è un bisogno primordiale che funge anche da collante per le energie. La situazione è arrivata a una tale intensità che la regia è stata costretta a intervenire con un repentino cambio di inquadratura. In aggiunta, si è verificato un momento di tensione durante una diretta tra Rosy Cien e Massimiliano Varrese. Varrese ha notato la difesa senza apparente motivo della chef nei confronti di Letizia Petris, scatenando la sua irritazione. La risposta di Rosy è stata decisa, non capisco perché tu debba coinvolgermi in una discussione alla quale non avevo nulla a che fare. Varrese sembra non aver digerito il comportamento di Rosy, manifestando la sua delusione e sottolineando la necessità di far evolvere la situazione con la fotografa. Insomma, la tensione è palpabile al grande fratello, con i nervi tesi e un'atmosfera carica di emozioni. Vi invito a rimanere con noi per essere sempre aggiornati su quanto accadrà prossimamente nella casa più famosa d'Italia. A presto con ulteriori aggiornamenti. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.